Sono Ornella Brunelli, l'argomento è sempre EFT, facciamo un giro insieme parlando di autostima. Spessissimo le persone non si stimano sufficientemente e affrontano tante situazioni nella giornata, nel lavoro, nel mondo delle amicizie, delle società con difficoltà perché pensano sempre di non essere bravi abbastanza, di non essere sufficientemente preparati, di non essere abbastanza pronti per affrontare determinate situazioni. Allora facciamo sempre il discorso dei vantaggi condivisi che condividiamo insieme io e voi con questo piccolo esercizio di EFT. Anche se non mi sento abbastanza in gamba per fare un lavoro di un certo tipo, mi amo e mi accetto così come sono. Non mi sento abbastanza in gamba, non mi sento pronto per affrontare questa esperienza, ho paura ad affrontare questa nuova esperienza, temo di affrontare l'esperienza, non mi sento bravo abbastanza per fare questa esperienza, non mi sento abbastanza pronto per fare questa esperienza, non mi stimo sufficientemente per fare questa esperienza, e così concludiamo con la fregamento delle mani che andiamo a muovere determinati punti sempre dei meridiani e si può anche intervenire con questa tecnica che si chiama SET, che è praticamente inteso come una tecnica semplice, emozionale di un percorso veloce che permette di svolgere in qualsiasi luogo siate senza picchiettarvi in tutti i punti del viso e del corpo. Mi raccomando, esercizi di EFT sempre!